La sagra di Offeio di fagioli con le cotiche è giunta alla sua 22esima edizione. Il 17 di agosto ormai è diventato un appuntamento fondamentale per la Valle del Cicolano e anche oltre. Più di 700-800 persone il 17 di agosto si hanno appuntamento per vivere questa emozione in questo piccolissimo borgo di Offeio. Piccolissimo proprio nel vero senso della parola, nel senso che normalmente ha circa 20 abitanti. Eppure questo comitato è così vivo, così intraprendente, riesce ad organizzare da tantissimi anni delle cose straordinarie, dall'equiraduno alla sagra. Ma in particolare la sagra nel 2010 è diventata una ecosagra, nel senso che ha moltissima attenzione per le stoviglie, per il compostaggio dello smaltimento dei rifiuti. Le stoviglie che utilizziamo sono delle stoviglie di mais che appunto sono biodegradabili e compostabili. Facciamo attenzione ad utilizzare tutti i prodotti delle aziende biologiche appunto della nostra zona. Abbiamo una particolare sensibilità allo smaltimento dei rifiuti, all'utilizzo di materiali appunto tutti... Per esempio utilizziamo il coccio per i fagioli con le cotiche che sono sicuramente lavabili. Li regaliamo addirittura alle persone che vogliono portarli con loro. Cerchiamo di impattare il meno possibile su quello che è l'ambiente, il nostro bellissimo territorio.